Per evitare ulteriori problemi Fuck Bella con la bacchetta tra l'altro Ok No, sai cosa avrei dovuto lasciargli fare Per vedere se evocava meteore Però vabbè Niente ciu ciu del fuoco qua No, ma fate bene a spammare Bene, ora è il set completo Di bacchette A occuparmi l'inventario Beh, occuparmi Bacchetta delle meteore Mi piace che dal dietro il mago delle meteore Sembra Un vulcano Non so se è voluto Insomma Yeah Boom Wow In barba alla pioggia Che facciamo sto sacrario Prima che crashi tutto Aspetta Aspetta, non è qua No, l'avevo visto prima Ma adesso me lo sono perso Ok, qua davanti Eccoci Namika osu Ah Bene, questo è il sacrario Dovevi aspettare 53 minuti esatti E poi devi fare fare la danza Link Vai Leo No, forza intermedia No prob No prob Bob Usiamo una delle mie alabarde reali 3 secondi Baby 3 secondi E tutto Verrà distrutto Bara bap Bara bap Lancio Abisante 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 No, come on, Link. Ho lasciato il guardiano. No problem. Ho lasciato il guardiano. I'M UNSTOPPABLE! Sai, però, quest'area avrei dovuto farla prima del boss finale. Non adesso, che adesso vado a buttarle tutte. Oh, Brandistocco del ghiaccio. Vado a buttarle tutte nel... nel Vattelapesca. Nella zona dei Rito. Beh, buttarle si fa per dire, ma... Brandistocco del ghiaccio. Mi sento un po' con pagliaccio. Beh, un'altra di queste. Questo posso usarlo. Uh, sono a dodici. Posso prendermi tre cuori. Tre cuori. Bene. E parli come fossero armi uniche? Beh, più che altro è perché mi piace l'aspetto che hanno, quindi... Ne voglio tre decorativi nella mia casa. Bene, bel posto. Otto su dieci. Svelto verso quel punto che credo che sia un coroggo, ma probabilmente non lo è. E poi... Roveli. E poi... Fata radiosa. E poi chiudiamo. Maybe. Maybe. Probabilmente. Perché... Sennò mi esplode il PC, maybe. I don't know. No, era un calo di connessione, per quello che son crashato. Non c'entrava niente il PC stavolta. È tipo... Così devi dividere in due lo stream. Oh, c'è un altro ceppo con... Un mago del ghiaccio dentro. Però questo è un mago standard. Se non vedo niente di speciale... Oh, beh, c'è un coroggo. Avevo ragione. Oh, sono proprio sopra. Ehm... Oh, non mi ha visto bene. Fuck. Fiuuuh. Fredato. Aaaaaaah. Oh. sono stanco, perdonatemi aspetta, non è scatola originale ok, lethal non vedere più niente, d'accordo? non vedere più niente, no, io direi che non vedo niente, voi vedete qualcosa e non vedo niente vi dico che riesco a bloccare Ganon da qua visto che Stasis ha raggio infinito ho chi o anatre clic ok rovely oh guys sapete sapete cosa ci siamo scordati oggi la storia azzora esatto che peccato beep 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 45 ingranaggi, baby le stragi quindi un elmo ancestrale please beep 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 e dei gambali ancestrali cos'altro posso fare con i materiali non ho più ingranaggi posso fare lo spadone motosega e basta mi servono solo altre mille rupie beep ok mettiamoci il completo dai wow sai che sembra più figo del previsto per il fatto che gli copre gli occhi oh non ho più armi pretty cool andiamo qua fuori a testare contro un laser vedere quanto mi fa voglio vedere la spada che si accende in diretta puuuuuh tu 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 fuori Ufff! Eeeh, nèh, era solo una foto. Shoot me, dragon! Shoot me! Oh! Ah, ok, pensavo non mi vedessero. Sai cosa? È probabilmente un upgrade, livello 3. Eeeh! Tipo... metà dei danni? Ok, è stato bello che è durato. Andiamo al villaggio degli Zora. Probabilmente, quando l'upgradi a livello 3, funziona come la maschera di Scallomania. O a livello 2, magari. È tipo Pungolo. Non sono sicuro di sapere cosa sia Pungolo, però andando, ragionando al contrario, è la spada del Signore degli Anelli. Perché ovviamente è una spada che si illumina. Quindi, servono mille. Beh, questa è probabilmente l'armatura più Monster Hunter che c'è. Se potessi sconfiggere i guardiani e prendere i loro pezzi, uscirebbe una cosa simile. Ed è praticamente quello che si è fatto, no? Con i pezzi di guardiano si fa... Ehm... Questo non è il negozio, quell'altro. Sarebbe divertente se funziona contro i guardiani, però i guardiani ci impiegano... Tre minuti. Cioè, tre secondi. A realizzare che non sei un guardiano. Ti vendo la mia... Ti vendo i miei soldi, va bene? Oh! Oh! I guardiani sono come i Metal Gear Gecko. Sono metà robot, metà biologici. La metà biologica ce l'ha messa Ganon. Prima erano completamente robot. Ok... I soldi ce li ho. Hey guys! E se... Prendiamo quel corno di Firodra? Non so... Avete voglia? Se no non lo faccio. Perchè con un altro corno posso potenziare il mio vestito blu. Se non avete voglia. Perchè con un altro corno. Ma invece... C'è pure vallecchio, perdere probabilmente accarezzare un cavallo è un aspio mi manca un aspio e posso potenziare è un ala di pipistrello glaciale che penso di aver ottenuto I think mi pare che hanno ucciso uno noi guardiamo e basta lo so ma se tipo se pensate che non è adatto dovrei farlo prima di iniziare il prossimo stream roba simile e Firodra quindi secondo le regole non può scompare dopo un po' emerge da questo batteria quasi scarica la rischiamo potrei attaccarlo immediatamente però non so se voglio rischiarla I don't know maybe ok eh era qui che l'avevo aspettato la volta scorsa no? perché viene adeguato volevo fare un fuoco per far passare il tempo ma sapete com'è la pioggia grazie 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 Mi piace che la pose che fa prima di sparare il raggio È la stessa di quando lancia un'arma È tipo uh sto per farlo Non sapete quanto vorrei scendere sotto l'arcata e fare un fuoco e far passare il tempo È solo che fa che lo faccio Al massimo lo rimpiangerò Non è con quelli che si accende il fuoco Devo ricordarmi che i draghi arrivano sempre con una corrente ascensionale Quindi anche se sono in basso non è necessariamente una tragedia Ora sono le 21 Oh Eccolo che esce ok Sta uscendo sta uscendo Neanche fosse tipo un piccolo neonato Roba simile Ok Se ricordo bene dovrebbe curvare verso questa direzione Gli stacchiamo il corno Curvo perché fa un'altra immersione no? Oh non dirmi che è la volta che fa No no ok Il giro che fa è sempre uguale Ok bebe Ok bebe I got you I got you bebe Yeah Firodra Yeah E poi gli saltiamo in schiena Con l'elmo del tuono Per vedere che succede Oh guardalo He's coming Guarda come scende It's time Corrente ascensionale please Perfetto Uh la punta Ok Lo cavalchiamo Oh Oh l'ho mancato Come on come on Ah vabbè Fuck it Ho tenuto quello che volevo Yeah baby L'avevo L'ho già cavalcato una volta La prima volta Non so neanche più dov'è adesso Vabbè Done Potenziamoci Con queste armi Dopo una serie di deck consecutivi I am robot With beautiful jewelry Potenziali Oh shit No No non voglio Mi sono scordato una cosa Bye Bye Ciao Il pesce Dannato pesce Il pesce E la motosega Me la ricordate la motosega? Pesce Motosega Potenzia Stato della dea Storia Zora Cavalca un rinoceronte Eh magari facciamo qualche pesce fritto Se i fulmini vengono a colpirmi fin qua giù Freedom Yeah Ce n'è un altro ma sta fuggendo Oh no I got you Bueno Potenzia No Motosega Quanto vale a farlo subito Perché Casomai che mi serve la roba per potenziare Non so se mai Se Monster Hunter 5 E' esclusiva Nintendo di nuovo Devono mettere Un guardiano Affrontabile Quanto non penso che Laser Siano una cosa che non è mai successa In Monster Hunter No Se non ci sono laser Ci sono robe molto simili Spadone ancestrale Hai troppa roba 55 di potenza Ma fa schifo rispetto a tutto il resto Appoggio Beh è più potente lo spadone del fuoco Ma lo spadone del fuoco è di fuoco Non mi serve la bacchetta del fuoco Non mi serve la bacchetta del fulmine Anzi aspetta Ho troppa roba di fuoco Non mi serve la bacchetta del fuoco Cioè Proviamo una volta se posso evocare meteore Non preoccupate È tutto a posto Non preoccupate È normale Tutto molto normale È ora la torta è accesa Ok Questo è stato bello Ah Ora facciamo una motosega Ok 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 Ah Odio che sono chiusi Vabbè Non mi metto a fare la foto Quando sono aperti Magari quando avrò tempo e voglia Eccolo Ah è effettivamente una motosega Pensavo fosse solo decorativo Senti il rumore Non penso che funzioni Ma sarebbe bello se tagliassi gli alberi solo passandogli da parte Non mi metto a fare la foto Ok Ok Vabbè la tengo Ok ora mi potenzio Poi ci siamo quasi E' come una versione effettivamente figa dell'aiato Non prendi la legna, hai ucciso un albero per nulla Non preoccuparti Ganon resetta anche gli alberi Quindi dovrei poter potenziare almeno cinque cose Ok adesso quattro Savak Yeah Punica del campione Level 2 Per il prossimo livello testa di Oldra Ah corno di Neldra Ok Andrò a scoprire la strada che fa Neldra Ciusù bianca, ala di pipesterello glaciale Perfetto posso fare entrambi Posso fare i gambali Zohara E posso fare tutti e due i pezzi da barbaro E un po' una cosa Scallomania Quattro diamanti Holy fucking shit E posso fare questo e questo Nice nice Un bel po' di roba Sì per favore I miei pantaloni da genio Quella motosega lì Come si chiamerebbe una versione bootleg della monado Non fate battute con la monade La prossima volta probabilmente otterremo Il Il pezzo mancante Dei vestiti da barbaro Se è nel labirinto Visto che gli altri due Li ho trovati negli labirinti Non c'è senza no Derp 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 Zoccolo di Lionel Oh livello 3 Nice Giusto giusto La monaco Una di queste E facciamo il diadema Quei quattro diamanti Tanto le armi leggendarie Le sprecherei solo Ok Ok nice Festival del potenziamento E' finito Diamo nuovi bonus Non penso Questo non mi ha mai dato bonus vero? Questo però Magari Riduci i danni da scossa? Oh I'm sorry Aspetta Scossa Intendono elettricità Giusto? Non I danni Se ti scuotono Perché quelli non esistono Credo Questo è guizzo meno faticoso C'era già E basta No Questo non è completo Quindi non mi dà bonus Beh questo Non ancora Perché non è di livello 2 I'm sorry Ma già l'armo del tuono baby Ok Che mi serve d'altro Per il futuro Da 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 Quindi il corno di Neldra Cuore di Inox Ambra Alla di pipistrello Alla di pipistrello Sto pazzo Schegge di stella Mamma mia Coda Rilisa Al fosse elettrico Farfalle Inifughe Mamma mia Lucerto Le focus Tutta roba ricercata Opale Rane Ah il pipistrello glaciale Serve anche per Questo Lumiserite Moldenottere Si cominciano a richiedere Parecchia roba Adesso Roba seria Oh Posso potenziare i stimoli Da denire Da sabbia Anche Cool Ciao 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 Quante Moldenottere Dovranno perdere la vita Per Far raggiungere a scalomeni Il suo apice Dovranno perdere la vita Dovranno perdere la vita Dovranno perdere la vita Dovranno perdere la vita E' Ma in un futuro Immagino che se ci fosse una versione non so 3.0 dei guardiani vabbè c'è già una versione 10.0 Dei guardiani sarebbero tipo così umanoidi Almeno negli anime è sempre così La forma più potente è sempre quella che sembra meno mostruosa ma più umanoide Andiamo dalla statua della dea E poi ho finito E poi ho finito Grazie Grazie